In una palazzina di tre piani in via Bracci nel quartiere di San Lazzaro, ieri sera, poco dopo le 21, si sono vissuti attimi di terrore. Un incendio al quadro elettrico all'inizio della rampa di scale condominiale e le fiamme che si sono sviluppate hanno di fatto bloccato i residenti all'interno delle loro abitazioni. Alcune esplosioni come fuochi d'artificio e poi il denso fumo acre che invade sia la tromba delle scale che gli appartamenti getta nel panico le famiglie, alcune delle quali anche con persone anziane, ultranovantenni e con problemi di deambulazione. Le grida dalle finestre e dai balconi richiamano i vicini pochi minuti ed arrivano i vigili del fuoco di Fano che trovano al loro arrivo le persone sui balconi con anziani e bambini che tentano di sfuggire al fumo, non potendo abbandonare lo stabile per le fiamme proprio all'ingresso del palazzo con il portone anche fortemente danneggiato. Per alcuni di loro, ben sette, ci sono i primi segnali di intossicazione, difficoltà a respirare, tosse e senso di nausea. Arrivano così anche due autoambulanze e vengono trasportati al pronto soccorso di Fano dove alcuni di loro rimangono per accertamenti anche fino alle 3.30 di questa mattina. Che cosa abbia causato il cortocircuito alla base dell'incendio del quadro elettico di questa palazzina dell'Erap, di edilizia popolare al civico numero 21, lo stabiliranno le indagini dei vigili del fuoco. Sta di fatto che ora tutte e sei nuclei familiari sono fuori di casa. La palazzina non ha subito danni strutturali, quindi è agibile, ma gas ed elettricità sono fuori uso. Così, chi ha potuto sistemarsi da vicini o parenti l'ha fatto. Per due famiglie, più un anziano solo, invece, il comune di Fano ha predisposto, attraverso il sindaco e l'assessore ai servizi sociali, Marina Barnesi, una sistemazione di fortuna all'hotel Metauro, nel quale queste persone rimarranno fino a quando non potranno rientrare nelle loro abitazioni. Grazie.